Bentornati ai nostri Digital Talk di Wine in Siena, quelli voluti da Camera di Commercio e questa è l'ultima delle nostre puntate, quella in cui alla fine dobbiamo cercare di tirare un po' le fila. Abbiamo visto tante sfaccettature del mondo vitivinicolo italiano, da importatori, export manager, produttori, docenti, universitari, esperti di marketing, giornalisti, wine blogger, abbiamo cercato di farvi vedere questo mondo da tante angolazioni diverse e oggi abbiamo per l'ultima puntata un parterre classico e molto autorevole e lo abbiamo lasciato apposta per ultimo. Abbiamo con noi Donatella Cinelli Colombini, che è una nuova produttrice ma è anche la presidente dell'Associazione Nazionale Donne del Vino, Anna Di Martino, che è una giornalista economica storica del Corriere della Sera, storica si può dire, che è appassionata di questo mondo da tanti tanti anni e quindi è diventata un'autorità in materia, tant'è vero che la sua ricerca annuale sulle top cantine italiane è un must a cui tutti fanno riferimento. L'uomo che sta in mezzo a queste due campionesse del mondo del vino è il professor Lorenzo Zanni, che ha un compito in grado perché sono due donne molto volitive. Lorenzo è uno degli antesignani dello studio sulla sostenibilità in campo vidivinicolo. È stato tra i primi in Italia, se non il primo, a capire che la sostenibilità poteva essere una leva del marketing e poi vediamo perché è così importante. Allora, cominciamo da Donatella. Donatella, tu sei una donna e una produttrice eclettica, sei quella che ha contribuito, se non hai inventato il movimento del turismo del vino, ti sei inventata cantina aperte, calici di stelle, ho avuto l'onore di lavorare insieme a te per fare il trekking urbano, quindi sei un'imprenditrice ma anche una donna molto creativa. Come l'hai visti questi mesi e come ci sei passata attraverso a queste emergenze che ovviamente per chi produce vino, fa agriturismo, ha negozi che vendono oggetti di artigianato molto ricercati, è un periodo difficilissimo immagino. Prima di tutto grazie di questo invito, grazie a te Davide, e grazie a Wine in Siena per questa opportunità. Dunque, vi ho fatto un scenario un po' a macchia di leopardo, nel senso che il vino italiano è passato attraverso il Covid in modo diseguale. Meglio le aziende grandi, peggio, molto peggio le aziende piccole che non avevano accesso alla grande distribuzione, e tuttora non hanno accesso alla grande distribuzione e esportano di meno. Hanno subito un contraccolpo più forte quelli che vendevano soprattutto in Italia e quelli che vendevano soprattutto nel comparto Orica, cioè nei ristoranti, delegando alla ristorazione parte della commercializzazione e anche del marketing, della comunicazione sui loro vedi. Perché il grande malato in questa vicenda sono proprio i ristoranti, cioè tutto il comparto della somministrazione, soprattutto in Italia. L'Italia aveva 330.000, a grosso modo, luoghi di somministrazione, quindi uno ogni 180 abitanti, che è veramente troppo. Cioè per darvi un'idea, la Francia ne ha uno ogni 300 abitanti e ha più arrivi turistici dell'Italia. Quindi quanti vendevano soprattutto nella ristorazione, si sono trovati nei guai e si troveranno ancora più nei guai l'anno prossimo. Ha retto meglio l'export, in certi paesi ha tenuto veramente bene, per esempio certe zone del Canada, soprattutto il Quebec, addirittura hanno venduto più dell'anno precedente e comunque anche la Svezia, dove come in Canada c'è un monopolio, hanno tenuto. Ha tenuto la Svizzera, ha tenuto gli Stati Uniti, che, e va detto questo, avevano una situazione anomala, perché l'anno scorso per i dazzi di Trump tutti abbiamo spedito nei primi dieci giorni di gennaio. Ricordo, sì è vero, c'è stata questa malquata domenica. Era già partito per gli Stati Uniti, però benché il calo ci sia stato anche su quel mercato, si è un po' attenuato, mentre, devo dire, il grande mercato in crisi all'estero è sicuramente la Gran Bretagna. Ok? Ha preso uno scivolone di quelli proprio, che non si sa nemmeno quanto grande, perché era un mercato di transito prima, per cui non si sa cosa avremo tra l'avanti. Il grande rebus è sicuramente il futuro, perché bisognerà vedere con le vaccinazioni che inizieranno nelle prossime settimane, se gli Stati Uniti recupereranno e quanto velocemente, e bisognerà vedere l'Asia. L'Asia ha comprato abbastanza poco, però è in buona salute. Soprattutto la Cina, soprattutto alcuni mercati che sono, come diranno, avevano già l'esperienza della SARS e avevano già collaudato un sistema di mascherine, di disinfettanti, di triage davanti agli ospedali, quindi l'hanno vissuta un po' meglio di noi. Esatto, la Cina tra l'altro è già fuori completamente dalla pandemia, quindi in molti si aspettano una sua ripartenza abbastanza veloce. Anna, tu sei la giornalista che ha partecipato forse a più talk in queste settimane del mondo del vino a tutte le maggiori manifestazioni digitali che si sono tenute e dove sono state presentate molte ricerche. Da questo tuo viaggio digitale che magari non è così bello come quello reale che sei abituato a fare di solito tra le fiere e i luoghi del vino, anche se vivi a scelta di vivere non a Roma e non a Milano, ma nel Chianti, in un posto bellissimo. Da questo tuo viaggio digitale che sintesi si può fare? Quali sono i dati che ti sono rimasti più in mente di tutta questa buffata di ricerche che è arrivata in poche settimane? Ecco, ce ne sono diverse di informazioni e di spunti che sono arrivati dai vari incontri che ci sono stati dire nell'ultimo mese soprattutto, però io inizierei proprio su quello che mi ha colpito di più e che tutto sommato interessa di più anche al mercato del vino più direttamente, che è quello relativo alla grande distribuzione, ai dati sulla grande distribuzione. e sono tanti gli spunti importanti, però prima voglio dirvi una cosa, quando c'è stato il primo lockdown a marzo-aprile, quello era il momento in cui io raccoglievo i dati per fare la mia classifica sulle maggiori aziende vitilinicole italiane, maggiori in termini di fatturato evidentemente, quelle con più di 10 milioni. E ovviamente io raccoglievo i dati e poi chiamavo molti produttori per sapere un po' che cosa mi potevano raccontare dell'ultimo esercizio e soprattutto della situazione che improvvisamente era deflagrata sul mercato per la pandemia. Ebbene, molti di loro mi hanno detto che l'esercizio che avevano chiuso il 2019 era stato un esercizio magnifico e alla luce di quello che stava succedendo difficilmente ripetibile, perché io lo sto dicendo? Perché voglio che ce ne ricordiamo dopo quando parleremo del futuro. Cioè, noi parliamo di un mercato che è stato travolto dal problema della pandemia che però era in buona salute, stava andando molto bene, tutte le componenti del mercato del vino tiravano una meraviglia e questo ce lo dobbiamo ricordare per dopo. Ovviamente molti mi dicevano adesso siamo fermi, soprattutto quelli che lavoravano prevalentemente sul fronte dell'oreca, perché è ovvio non ci sono i ristoranti, non ci sono i bar, non ci sono i turisti, è ovvio che tutto si ferma. Però mentre loro mi dicevano siamo fermi, mi arrivavano le telefonate di quelli che invece dicevano guardi che noi stiamo andando meglio di sempre, non siamo mai andati così bene come in questo momento e quali erano le aziende che mi dicevano questo? Evidentemente quelle che lavoravano prevalentemente se non esclusivamente con la grande distribuzione organizzata e i dati ci sono, cioè il risultato è proprio questo, cioè l'ultimo rapporto che ha fatto l'Airai che è un'autorità in materia di grande distribuzione sui primi dieci mesi del 2020 di questo maledetto anno sono incredibili, cioè c'è stato un incremento delle vendite in valore che sfiora il 7% e un incremento delle vendite in volume che è superiore al 5%, sembrano piccoli questi dati, no no sono dati grandi, ecco teniamo presente che l'anno scorso eravamo tutti contenti perché c'era stata nella grande distribuzione un incremento delle vendite in volume di poco superiore all'1% e un incremento delle vendite in valore che non arrivava al 2%, quindi questo la dice lunga di quello che è successo. Ecco Anna, si può dire che non è che le persone hanno smesso di bere il vino, il mercato si è spostato, è uscito dal canale Oreca e si è trasferito nella GDO. Ma certamente, ma non solo ha smesso di bere il vino, ha anche scelto vini migliori, vini di maggiore qualità perché l'altra altra grossa notizia anche questa è una curiosità che è venuta fuori che non mi aspettavo. I vini che hanno tirato di più in assoluto sono quelli della fascia medio alta dai 7 ai 10 euro. Questi vini, questa tipologia di vini ha registrato un incremento che sfiora il 14% e sono andati benissimo anche i vini nella fascia di prezzo da 5 a 7 euro. Anche loro sono cresciuti dell'8% e passa. Mentre mi dicevano quelli da 3 euro no. Da quelli, tutti quelli sotto i 3 euro non si sono, si sono fermati, sono andati indietro. Ora, attenzione, questa non è la tendenza a comprare qualcosa che è di maggiore qualità, non è una novità, era già partita da un paio d'anni, si comprava di meno ma si comprava meglio. In questo periodo però il tutto è stato amplificato e come se la gente triste, abilita, preoccupata, spaventata, non so, trovasse nell'acquisto di una buona bottiglia una piccola gratificazione, capito, una coccola nel momento che doveva stare chiuso in casa e tenete presente che tutto questo è avvenuto con un calo delle promozioni persino che non è andato indietro. Quindi la gente ha cercato la marca, ha cercato il vino che conosceva di più. Ci sono delle grandissime aziende che lavorano soprattutto nell'Oreca, faccio pure due nomi così sono più chiare, tipo Antinori e Frescobaldi che durante il lockdown mi hanno detto che stavano registrando incrementi da campagna natalizia con i loro vini di grande distribuzione. quindi la marca è un'altra delle cose insieme alla buona salute del mercato che ci dobbiamo tenere ben presente per il prossimo giro. La marca intesa come una forte identità, una conoscenza del brand, la conoscenza della cantina, una conoscenza buona, nel senso non solo un brand di lusso ma che ha una storia, un'identità culturale, un collegamento al territorio. Che evoca qualcosa di buono, qualcosa di importante, qualcosa di qualità, che fa la differenza rispetto ad altri vini. pazienza, spendo un po' di più ma mi porto a casa qualcosa che vale anche molto di più. Guardate che una delle cose che mi ha molto compito è sentire parlare i responsabili del beverage delle maggiori insegne a seguito della presentazione di questi dati. Io ho colto come una piccola rivincita, nessuno ha parlato di rivincita, però io penso che a pensare male qualche volta non si sbaglia. Cioè che cosa è successo? Che in questi mesi sono stati tampinati da telefonate, da richieste di ingresso nella grande distribuzione. E tutti quanti che cosa hanno cercato di dire? Cari signori, per molto tempo la grande distribuzione è stata considerata un canale di serie B. Ci avete snobbato? Adesso con calma e per piacere, noi abbiamo nei grandi nostri punti vendita un insieme di referenze che tocca gli 800 o le 900 voci e la fascia di prezzo più elevata, quella che interesserebbe molto le cantine che hanno sempre lavorato solo fuori nell'oreca, è ben presidiata da aziende che lavorano con noi da tempo. Quindi attenzione ci sarà da lavorare per poter entrare, al di là del fatto che molte cantine non sono abituate alla politica di prezzi aggressiva che hanno le insegne normalmente, oltre a probabilmente non avere neanche i numeri per poter diversificare tanto la loro... E qui si entra in tutto un altro mondo perché deve avere un certo numero di bottiglie, deve aver fatto un certo numero di esami alle tue produzioni e deve anche essere capace di sopportare prezzi che tante volte sono più bassi di quelli che trovi nei punti vendita della cantina direttamente in cantina. Capita spesso di trovare in un supermercato un vino a un prezzo inferiore a quello che è dentro la cantina dove è stato prodotto e che è paradossale ma è così. Non è neanche tanto bello detto da consumatore però è comprensibile. Lorenzo con Anna abbiamo parlato un po' di queste ricerche ce n'è una di Nomis ma in particolare che mi è rimasta impressa perché mette fra i vini che si riprenderanno quelli che avranno più futuro non come immaginavo appunto quelli che hanno un grande brand una grande identità certo c'è anche questa cosa ben presente nei primi posti fra le motivazioni da Cristo ma al primo e al secondo posto ci troviamo i vini biologici e i vini sostenibili ora io ricordo sempre quel forum della sostenibilità che tu hai fatto nel 2014 a Siena con quella ricerca su mille aziende dove sei stato di fatto il primo a teorizzare grazie a quei dati ovviamente che non è una tua invenzione ma è un dato scientifico estratto da una ricerca che la sostenibilità stava diventando una leva del marketing ti aspettavi che questa intuizione si trasformasse in questo dato statistico così forte tra i consumatori in così poco tempo? Allora sì anche se intanto buonasera anche da parte mia grazie dell'invito a Wine & Siena è un piacere parlare con voi e con i vostri telespettatori allora me lo aspettavo anche se il Covid ha amplificato e reso più rapidi determinati processi così come è avvenuto per la digitalizzazione probabilmente anche i temi della sostenibilità perché la salute se vogliamo vedere è anche un tema che puoi legare alla sostenibilità è un trend che non riguarda solo il settore del vino ma riguarda più settori uno su tutti la moda il modo del fast fashion come ci siamo vestiti probabilmente in questi ultimi 10-15 anni probabilmente non sarà il futuro però veniamo partendo da quella ricerca quella ricerca ebbe un merito di definire due o tre tematiche due o tre punti allora il primo è che le aziende italiane non sono nuove al tema della sostenibilità le aziende del vino e venivano fuori due strategie la prima era una strategia che approcciava la sostenibilità come una via per riduzione dei costi quindi leadership di costo e un'altra invece di differenziazione dell'offerta dove la sostenibilità era una leva per valorizzare il prodotto ecco tutte e due possono essere valide io non ho mai detto che c'è una one best way guardate alcune aziende poi avevano anche un più debole approccio alla sostenibilità non è che tutti devono per forza andare nella sostenibilità però quella ricerca testimoniava che investire sulla sostenibilità alla fine aveva portato dei vantaggi e chi è che aveva avuto un impatto migliore sui propri bilanci si fece una correlazione appunto sulle performance economiche quella che avevano puntato sulla differenziazione dell'offerta cioè utilizzare la sostenibilità come una leva di differenziazione del proprio prodotto dava risultati economici in tempi più brevi l'altra strada che portava invece al miglioramento sui costi aveva degli effetti ma più di lungo periodo un altro aspetto interessante era come gli italiani approcciavano la sostenibilità ad esempio se noi avessimo fatto questa stessa indagine a un campione di aziende americane probabilmente ti rispondevano il risparmio sulla CO2 acqua la chimica che sono cose molto importanti ma la prima risposta degli italiani davano era la difesa del paesaggio che secondo me dice io spendo tanto per tenere muri a secco per piantare i cipressi per piantare no per tenere perché il rapporto con il territorio oggi ti indica anche come gli italiani vedono il tema della sostenibilità no che quando dici la sostenibilità ambientale che è un fattore che poi si riallaccia al tema del turismo secondo me nel senso che oggi c'è anche un turismo sostenibile che lega perché gli stranieri poi amano la Toscana amano l'Italia amano la Sicilia amano le varie bellezze dell'Italia Piemonte di tutti appunto ci sono questo è un campione nazionale quindi tutti gli italiani rispondevano in questo modo qua ora se tu mi dici che cos'è che è cambiato io ti do tre tendenze sul tema della sostenibilità allora su cui secondo me bisognerà lavorare in futuro allora questo aspetto la sostenibilità era prevalentemente affrontato dalle singole aziende che lavoravano o su prodotti o sulla sulla propria azienda ci sono due novità la prima è che il tema della sostenibilità che era prevalentemente ambientale si sta affermando sia a livello internazionale ma anche su alcuni filoni nazionali il tema della sostenibilità sociale cioè oggi si cerca andare di certificare non solo la correttezza ambientale dei processi produttivi ma anche se si rispettano alcuni criteri perché dico questo è un concetto più ampio ma che sta entrando per fortuna di una sostenibilità appunto che non è solo ambientale ma è sociale in ambito lavorativo economica che abbraccia tutti gli ambiti della nostra vita è più prosaico Davide perché si lega alle cose che hanno detto Anna e anche Donatella alcune catene di distribuzione del nord Europa e del nord America stanno dicendo al made in Italy che bisogna stare attenti non solo alla qualità del prodotto ma anche come questo prodotto viene raccolto viene lavorato e stanno chiedendo non solo una certificazione ambientale ma per mettere il prodotto sullo scaffale alcune di queste stanno chiedendo anche delle attenzioni maggiori sul tema della sostenibilità sociale stai attento l'Italia ha dei bellissimi prodotti però come viene raccolto il pomodoro o qualche volta come viene raccolto alcune lavorazioni in vigna qualche scheletro nell'armadio ce l'abbiamo quindi questo è uno non abbiamo i palloni riusciti a mano dai bambini però sappiamo bene che se noi mettiamo tutto il made in Italy non ti sto dicendo il vino però se la grande distribuzione si muove su quelle logiche a livello internazionale alcuni danni di immagine li puoi pagare cari proprio perché chi aveva i palloni li ha pagati cari la seconda mentre le strategie che io vedevo negli anni precedenti sono sicuramente delle imprese leader alcune andavano avanti e facevano da pipista c'è una cosa molto interessante io lo vedo io sono nel comitato scientifico di Equalitas ma ce ne sono anche altri di centri che sviluppano degli standard ci sono alcune aree che stanno cercando di certificare i propri territori cioè una certificazione non di solo singola azienda ma di area territoriale cioè in modo tale ovviamente è più difficile è più complesso però è un'evoluzione molto interessante dove cerchi non di muo perché probabilmente a livello solo di singola azienda puoi rafforzare un marchio ma quando è un problema di immagine di tutto il territorio probabilmente ti devi muovere in più infine l'ultimo è un problema di standardizzazione e semplificazione oggi ci sono troppi standard bisogna cercare di ridurre la complessità burocratica e se il governo desse una mano secondo me averne anche qualche di uno unificato questo è uno sforzo da fare non sarebbe male perché bisogna semplificare la vita delle aziende e probabilmente a livello anche quella del cittadino vale a tutti certo però ora la certificazione non è obbligatoria però da un lato ha un costo e dall'altro probabilmente anche come immagine del nostro paese se ci fosse un approccio politico che se ne parla da tempo secondo me se ne sta parlando da un po' troppo tempo però questi secondo me sono i tre punti critici su come si giocherà la sostenibilità in futuro premesso che è una delle leve non è l'unica Anna e Donatella ne hanno già dette altre il brand è un altro ci arriviamo dopo ci arriviamo dopo voglio restare un secondo su questo tema della sostenibilità facendo un giro veloce poi ci ascoltiamo un'intervista che abbiamo preparato a Stefano Bernardini che è il presidente della ConfCommercio di Siena ma è anche la persona che ha avuto l'idea di wine in Siena è un suo lui è un wine lover di vecchia data e nei suoi viaggi a Merano alla fine un giorno si è messo lì con Helmut Keker e insieme hanno fatto nascere questo progetto che Donatella sa bene quante volte abbiamo provato a far nascere a Siena negli anni precedenti lei c'era quasi riuscita poi purtroppo ci fu un no all'ultimo momento da uno che stava più in alto di lei e non si riuscì a farlo però mi interessava la sostenibilità perché io sono allora io sono tendenzialmente un ambientalista della primora io già negli anni 90 avevo una certa vocazione per questo tipo di tematiche e quindi l'ho visto e nascere l'ho seguito ho fatto parte dei Verdi in quegli anni lì se vi ricordate erano una cosa pionieristica però i primi viti biologici che ho degustato li ho trovati orribili ma si parla di 15 anni fa e devo dire che legare che legare sostenibilità come a una specie di marchio di qualità cioè di qualità appunto non di sostenibilità nel senso che fa bene all'ambiente rispetto a chi lavora ma che è un buon vino solo perché è sostenibile o biologico a me questo un po' mi spaventa te Donatella cosa ne pensi devo dire confermo quello che ha detto il professor Zanni prima cioè esiste una tendenza mondiale verso una sostenibilità ambientale più ampia e le parole d'ordine oggi sono praticamente tre che sono autottono inteso come territoriale come caratteri autottono come vitigni come lieviti come lavorazioni come stile ma l'ambientalismo arriva anche fuori dalla vigna dove dove le pratiche diciamo bio e biodinamiche sono tutto sommato più semplici e in cantina c'è questa tendenza del senza mani cioè con pratiche enologiche meno invasive ecco questo è vero esiste una moda generalizzata in tutto il mondo soprattutto in Scandinavia per quanto riguarda l'Europa e in Canada per quanto riguarda l'America ecco mi spaventa però perché mi spaventa perché mi vengono in mente che ne so le patatine senza glutine oppure che ne so no no calma calma allora diventa un marchio di contenuti che il al di là di questo il il vino che tutti ricordi che effettivamente fino a qualche anno fa il vino biologico biodinamico in particolare naturale aveva delle puzze importanti diciamo la verità si può dire adesso ecco ecco questi pian pianino questi problemi si stanno attenuando è anche vero che il clima non ci aiuta perché più alte sono le temperature più aumenta l'insolazione più basso è l'acidità più alta il pH e più il fatto di avere poca solforosa ci espone all'attacco di qualunque infezione in cantina soprattutto chi ha vini in legno deve veramente fare uno sforzo enorme per mantenerli completamente puliti però si possono sentire anche dei grandissimi vini non eccessivamente aromatici che sono perfettamente puliti quindi è solo una questione di organizzazione Anna tu cosa ne pensi? sincera eh? ma io non vorrei che diventassimo un po' troppo talebani su questo fronte figurati se io non posso essere d'accordo sulla esigenza di lavorare tenendo ben presente la sostenibilità a 360 gradi perché Lorenzo buono pulito e giusto è lo slogan che Slow Food utilizza ormai da tantissimo tempo ora però stabilire così beh adesso vi racconto questa in uno degli ultimi webinar per esempio il grande Oscar Farinetti che è un uomo marketing lo sapevo e se ti provocavo lo dicevi ha dei capelli fino all'alluce del piede sinistro ha spronato tutti dice qui l'Italia deve veramente farsi notare in maniera unica e sola bisognerà che il governo organizzi una grande conferenza stampa con grandi testimoni con la quale racconterà tutto il mondo che in Italia si faranno solo vini sostenibili solo vini biologici eccetera eccetera ora questo è un discorso bellissimo che fa tanta scena però anche per fare vini biologici bisogna intendersene di malattie no? cioè non è che chiunque può mettersi a fare vini biologici con successo no? infatti 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 i vini i vini biologici Anna sono diventati buoni da quando hanno cominciato a farli i grandi produttori ecco perché hanno gli strumenti perché hanno le capacità e le competenze per poterlo fare ora una cosa è dire io gli insetticidi non li uso più no? perché quello si può fare si può fare la lotta però eliminare io non lo so io sembra forse non faccio una bella figura a dire questo ma io non sono assolutamente convinta che il vino buono è solamente quello biologico secondo me ci sono tanti vini ottimi che biologici non sono ma sono realizzati attraverso una pratica indigna molto attenta molto rispettosa molto rigorosa è un lavoro in cantina il più possibile esatto più ormai standardizzato da decine di anni magari Donatella con le mani no con le mani nude ecco vabbè comunque Lorenzo sentito le due signore no no ma io concordo ma inzitutto vedi questo è già un primo aspetto perché noi si confonde sostenibilità come sinonimo di biologico ma quando io parlo di sostenibilità per questo io dico non c'è un unico approccio per me è una tendenza dove ogni singolo produttore dovrebbe cercare di avere un approccio di miglioramento quando mi riduci il livello di chimica no mi risparmi l'acqua mi modifichi le modalità di lavoro mi introduce anche delle tecnologie perché ecco forse c'è anche il tema dell'innovazione no quando Donatella dice che il clima cambia non è che i nostri vini siano sempre stati eterni no qualche volta a volte qualche innovazione che ti permette di avere dei prodotti anche più resistenti riuscire a combinare tradizione innovazione forse questa è la vera sfida no anche sul tema della sostenibilità io ricordo sempre che ogni tradizione è un'innovazione ben riuscita che si è sedimentata nel tempo e quindi se il clima effettivamente cambia prima di essere attaccati dai parassiti e di no e si trovano delle soluzioni ragioniamo su quello che ovviamente non deve andare a stravolgere il nostro approccio ecco anche io ho paura dei talibani vi faccio un esempio se alla fine viene trovato il figlio di 12 anni dell'imprenditore agricolo no che sta a vendemmiare e venisse fatta la multa per sfruttamento di lavoro minorile bisognerebbe spiegare a chi fa le analisi no e purtroppo magari se è un finlandese che ti viene a fare l'analisi glielo devi spiegare che in Italia c'è il family business però ecco da qui a dire è anche un rito un rituale che si tramata nei secoli diciamo non faccio dei nomi però io ero in visita a una primaria azienda diciamo di Montefalco no dove ho visto applicare con un semplice smartphone un sistema di monitoraggio degli operai in vigna stai parlando di uno degli imprenditori più avanti eh più Anna hai ragione però come tutte le cose possiamo dire anche il nome non succede niente vabbè stiamo parlando di Arnaldo Caprai l'azienda no però qual è la cosa che mi ha colpito non è il tanto che ti utilizzi uno smartphone nei filari no ma la cosa interessante è che in quel momento il capo operaio riusciva a inviare immediatamente all'amministrazione i dati su chi stava lavorando allora se a me tutto questo mi porta a una riduzione dei costi di amministrazione perché facevano già le paghe no e mi levi tutto il back office di carta di bolle di cose allora questa è un'innovazione tecnologica che ha un impatto sicuramente sulla sostenibilità sociale perché mi traccia immediatamente quante persone stanno lavorando indipendentemente dal colore della loro pelle e dalle e immediatamente mi vai a battere tutti quei costi che sono costi inutili perché preferisco no che sono quelli dell'amministrazione ecco questo è un esempio di applicazione di industria 4.0 no così come può essere un drone di monitoraggio del livello dove quando io dico innovazione e tradizione il vino non lo stai cambiando stai semplicemente modificando abbattendo dei costi di produzione ora qual è il problema vero è che Arnaldo Caprai se lo può permettere l'azienda probabilmente anche le 3-4 aziende leader di Montefalco se le possono permettere ecco bisognerebbe riuscire a convincere magari dei piccoli medi imprenditori dove sappiamo bene quali sono le difficoltà dove riuscire ad avere una strategia collettiva di territorio è un pochino più difficile lì se forse il governo desse una mano ci fosse ad esempio anche un'interpretazione all'inizio blanda dei controlli per fare in modo che questo mondo vada progressivamente io posso anche dire se ci fossero anche dei finanziamenti su dei contratti di rete dove le aziende leader possono fare da portare no perché hanno prodotto prima introducendo le tecnologie anche per gli altri probabilmente dall'analisi delle singole aziende puoi andare anche delle innovazioni di territorio dove il sistema si diffonde ecco qui bisognerebbe siccome il recovery fund probabilmente ne parliamo dopo Lorenzo però di questo perché questa seconda parte che dobbiamo un po' comprimere però parliamo di quello che succederà e dove si potrebbe andare ora sentiamo questa breve intervista al nostro presidente della Commercio di Siena Stefano Bernardini che abbiamo preparato prima appunto dove fa un po' il punto della situazione dei commercianti e appunto di Guaini Siena Stefano sono mesi terribili per tutti ma in particolare per i commercianti dal tuo osservatorio di Commercio cosa ci dici come stanno vivendo i tuoi associati questi mesi di Covid tra un lockdown e una zona rossa ma intanto buonasera direi capite bene che l'umore dei commercianti si vede anche dalle tante trasmissioni che vediamo in tv anche perché consideriamo il nostro mondo Commercio non rappresenta solo esclusivamente il commercio ma rappresenta anche il turismo e i servizi quindi diciamo che un mondo che in questo momento è pesantemente colpito sotto tutti i punti di vista e poi ci sono sinceramente delle situazioni che lasciano molto perplessi per certe incongruenze che si notano anche nel comportamento del nel comportamento del governo perché ora noi siamo passati nel giro di una settimana da zona gialla a zona rossa ci sono tantissimi esercizi che sono chiusi e penalizzati nonostante durante il primo lockdown si siano attrezzati seguendo naturalmente le norme che il governo centrale ci ha dato per la sanificazione degli ambienti per mettere tutti i locali a norma e ci ritroviamo ora nel secondo lockdown con la maggior parte delle attività chiuse ma anche le stesse attività che sono aperte subiscano un doppio danno subiscano il danno come dicevo di poter stare aperte però di non avere ristorni quando sappiamo benissimo e nei periodi in questi periodi qui soprattutto nelle zone rosse è difficile anche muoversi da parte delle persone quindi sai ovviamente non ti chiedo numeri e non ti chiedo nomi ma hai notizia di esercizi che non riapriranno che hanno alzato bandiera bianca ma sai io su questo credo che durante il primo lockdown sia stata data una grossa dimostrazione di vivacità da parte della nostra categoria allo stesso tempo credo che questa sarà una situazione che lascerà sicuramente diciamo sì fra virgolette ma non voglio usare un brutto termine diciamo così attività che non riapriranno ma io credo molto come sempre nella vivacità e nella forza dell'imprenditore privato perché un imprenditore prima di darsi per vinto mette tutto se stesso e tutto quello che ha a disposizione pur di poter andare avanti quindi io voglio essere positivo sicuramente qualche cosa lasceremo sul campo ma credo che quando il prossimo anno e spero il prima possibile arriverà questo benedetto medicinale o questo benedetto vaccino che tutti ci auspichiamo e tutti aspettiamo tanti proveranno ancora a rialzare la testa questo naturalmente deve essere di concerto insieme a coloro che possano dare un supporto un supporto fattivo non purtroppo un supporto come se volentieri è successo ora dove si è molto parlato molto promesso ma solo in parte sono arrivati o sono state fatte per le cose che invece erano necessarie credo che si debba fare in questo momento sicuramente in maniera di più rispetto a prima molte meno parole e parecchi più fatti e quando viene detta una cosa venga fatta ecco Stefano più parole cioè meno parole e più fatti e parlando di fatti noi nella prima puntata di questi digital talk di Vaini Siena abbiamo sentito il professor Montomoli l'epidemiologo di Vismederi che ha fatto quella ricerca famosa che dimostra che il covid in Italia c'è da settembre 2019 ora lui diceva abbiamo usato lui anche tu sei un appassionato un esperto di vini lui diceva che per darci una scadenza vinicola enologica che bisogna arrivare alla prossima vendemmia ci arriviamo ci arrivano i commercianti come e come cambierà un po' il mercato il loro modo di lavorare dopo il covid allora sicuramente io non sono un esperto come Montomoli che tra le altre cose io ascolto e recuto una persona sicuramente ai massimi livelli della sua professione ascolto però anche quello che dice il dottor il professor il dottor Rappuoli Rino Rappuoli che in questo periodo è stato alla ribalta anche delle tv nazionali ma che con il rapporto che ha con Siena la prima intervista l'ha fatta a me per espansione ad agosto su monoclonale incredibilmente ecco con il discorso di CLS che anche noi se sa io sono membro della deputazione amministrativa della fondazione quindi seguiamo da vicino l'evolversi di questo tipo di situazione se come si dice i primi vaccini e le prime cure monoclonali dovrebbero arrivare come diceva come sosteneva Rappuoli verso la fine di febbraio marzo io capisco che prima dovranno essere curate o vaccinate le persone naturalmente più deboli e coloro che lavorano però io credo che se si incomincia piano piano a riuscire questo virus a impedire che riesca a moltiplicarsi così velocemente come sta facendo ora credo che le attività con naturalmente gli accorgimenti che finora sono stati usati anche nel periodo del primo post lockdown si possa riuscire a convivere fino ad arrivare a quello che sarà poi il vero vaccino il vero vaccino è vaccinazione globale totale rimanendo poi sempre questo è un giudizio mio personale vedendo in questa velocità con cui vengano fatti questi vaccini se saranno efficienti per quanto tempo se ci dovranno essere dei richiami in poche parole bisognerà abituarsi a vivere in maniera differente rispetto a prima però che si torni a una vita più normale di quella di ora una vita sociale perché poi fondamentalmente le persone soprattutto noi senesi siamo abituati a una forte socialità e quindi la mancanza di questa in questi momenti si fa sentire pesantemente Stefano quando ti ho presentato ho detto che sei l'ideatore del Wine in Siena e l'avevo già detto quando è stato ospite in trasmissione Helmut Körger perché dal tuo viaggio a Merano e dall'incontro tra la tua idea e l'organizzazione di Helmut è nato e è nato Wine in Siena quest'anno è un'annata difficile perché tutte le fiere e vinicole del mondo del vino italiano sono ferme o sono costretti ad andare in digitale perché ovviamente gli eventi fieristici non si possono fare e quindi le nostre belle degustazioni come ce le ricordiamo quest'anno quasi al 100% ce ne dobbiamo dimenticare ma Wine in Siena in qualche modo lo farete andrete avanti senti stiamo ragionando con Helmut di vedere di trovare una soluzione come loro hanno fatto a Merano cioè hanno fatto un'edizione non in presenza digitale che possa naturalmente raccogliere quelle essenze che questa manifestazione può dare certo non è la stessa cosa è un surrugato di quello che in se stesso queste manifestazioni sono che non è solo la degustazione del calice di vino fino a se stessa è anche il poter stare visitare vedere dei luoghi poter degustare assaggiare questi vini in luoghi particolari in dei posti che fino a poco tempo fa non erano nemmeno aperti alla maggior parte delle persone quindi cercheremo di fare una cosa digitale la stiamo la stiamo studiando sempre credo nel periodo in cui veniva fatto il Wine and Siena anche perché ho sentito che le prime dei vini sono state tutte spostate a maggio altri tipi di manifestazioni anche tipo il Merano Wine Festival verrà fatta a aprile quindi c'è tutto uno spostamento in avanti sperando sempre naturalmente di poter ritornare almeno a una situazione post primo lockdown in cui non ci sia naturalmente i numeri degli anni prima ma ci sia un numero di persone che possa fruire di queste manifestazioni in maniera importante senza fare quello che dicevo prima tanto naturalmente attenti ai distanziamenti a tutte le norme che ci vengano imposte in questo momento questo per non far perdere il filo di una manifestazione che finora ci ha dato grossa soddisfazione però come si dice sempre la soddisfazione più grossa è quella di riuscire l'anno dopo a creare un qualcosa ancora più bello e ancora più fruibile rispetto a quello che è stato fatto l'anno prima bene Stefano ti ringraziamo allora auguriamoci davvero che quello che è diventato il primo evento nazionale dell'anno Vitti di Nicolo italiano possa trovare anche nel 2021 questa sua dimensione pur solo in digitale ma comunque che capa una stagione che si spera sia di rinnovamento grazie Stefano in bocca al lupo e forza mi raccomando proviamo davvero ad arrivare fino al fondo e di superare questo periodo così complesso e ricco di sfide grazie Stefano prego ciao un saluto a tutti buonasera ecco abbiamo sentito Stefano Bernardini di Confcommercio ci ha fatto un po' il punto della situazione dei commercianti si spera di poter far ripartire wine in Siena in un periodo quasi canonico mentre tutte le altre attività tutte le altre chiere sditteranno sperando di poter andare in presenza ma in Siena che il primo appuntamento dell'anno Vitti di Nicolo italiano sarà sicuramente nel 2021 in digitale sarà tra la fine di gennaio e i primi di febbraio abbiamo fatto un escursus sulla sostenibilità nella prima parte di questa nostra ultima puntata siamo arrivati al momento più importante quello in cui bisogna tentare di tirare la rifila e di mettere insieme i tanti punti di vista che si sono venuti fuori in queste cinque puntate la sostenibilità ci introduce appunto nel futuro perché è una delle tendenze come dicevamo prima che caratterizzano i vini che si produrranno da ora in poi sostenibilità e biologico si è detto secondo Nomis ma sono le motivazioni d'acquisto tra le più importanti motivazioni d'acquisto che ci aspettiamo di trovare nel consumatore Donatella il futuro che ci aspetta il presente è difficile il passato recentissimo è stato difficilissimo come te lo immagini questo futuro da produttrice e anche da presidente di un'associazione come quella delle donne del vino che raccoglie 900 donne italiane tra chi produce chi fa l'enotecaria chi fa l'enologa chi fa la giornalista un mondo al femminile molto variegato ma anche molto rappresentativo e molto di un livello qualitativo molto alto dunque la panoramica delle donne del vino è come hai detto tu molto articolata abbiamo visto cantine ci parlavo proprio ieri sera con la Sette Soli in Sicilia che stanno chiudendo un bel bilancio con segno più e come ha detto prima Anna stanno presidiando la grande distribuzione per evitare attacchi perché chi è già dentro si vuole tenere ben stretto il suo spazio devo dire molto preoccupate le piccole aziende questo era un dato che arrivava fino dal qualche mese fa dagli studi che provenivano dagli Stati Uniti che dicevano come si dice profetizzavano una specie di cannibalizzazione con i grandi che si mangiano i piccoli perché i piccoli non hanno la forza di fare quei tre pagi più grossi cioè l'internazionalizzazione l'entrata nel GDO e la digitalizzazione importante allora per quanto riguarda noi in Toscana bisogna reagire tanto perché la Toscana è stata una delle regioni una delle quattro regioni più colpite dal covid sotto il profilo turistico quindi bisogna reagire tanto stiamo già lavorando a un progetto che riguarda il fine settimana ricordiamo che il vino a denominazione di origine toscano che non viene esportato viene consumato all'interno della regione mi pare per una visione al 65% perché si consumava nei ristoranti negli abiturismi nei supermercati anche giusto Donatella? sì esatto quindi bisogna bisogna reagire anche per perché riconvertire a marce forzate il turismo transatlantico diciamo così in turismo europeo non è una passeggiata e l'idea è quella appunto di un grande evento che proprio avendo una massa critica importante durante il weekend di Pentecost di maggio quando saranno appena finite le anteprime di Toscana dia l'immagine al mondo l'immagine della Toscana come l'immagine del luogo prediletto per i wine lover dove si mangia la cucina tipica insieme ai grandi vini della Toscana si assaggiano tantissimi vini e l'idea è quella proprio di costruire un 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 qualcosa che assomigli concentrandolo a quello che è stato fatto in Australia o in Scozia qualche anno fa ecco questa è la prima visura una grande festa enogastronomica in tutta la Toscana all'insegna della tradizione soprattutto in tutti i ristoranti e nelle cantine aperte al pubblico tipicità senza abusi senza eccessi ma con grande piacevolezza dell'assaggio è chiaro che per noi diventa strategico determinante la salvaguardia delle piccole imprese perché mentre le grandi imprese già si vede dai dati dati da Nomis ma nei giorni scorsi quest'anno diciamo non hanno sofferto più di tanto e per le piccole si è si è provata una nata difficile e con il network delle donne del vino che è mondiale abbiamo fatto una ricognizione due una settimana fa ecco quelle più sconvolte di tutte sono le francesi ma una cosa sotto shock proprio ecco il nostro importatore inglese che abbiamo sentito precedentemente ci diceva loro importano i vini italiani spagnoli e francesi quelli francesi sono quelli che per la meno per la loro esperienza in Inghilterra sono quelli che non ne hanno risentito di più mentre gli italiani sono quelli che pur perdendo a doppia cifra si sono salvati e devo dire un po' il clima un po' dappertutto lo stesso cioè le piccole aziende che stanno in grossa difficoltà la ristorazione che è l'anello debole sarà ancora più attaccato da delivery da uno stile di consumo che è completamente cambiato e anche nel turismo del vino bisognerà riconvertirsi velocemente velocemente puntando sulla diversità e sull'esperienza Anna dal tuo punto di vista ne abbiamo parlato quando ci siamo sentiti per preparare questa puntata la cantina l'azienda vinicola che sopravviverà meglio delle altre qual è? hai un pensiero economista abbastanza lucido e limpido da questo punto di vista guarda se stiamo a guardare i dati ci sta da farvi venire a tremare le vene ai polsi se guardiamo i dati sono tutti negativi perché anche le aziende medio e grandi tutto sommato perderanno quote di fatturato ci saranno delle pressioni lo stesso export va indietro dopo un decennio di crescita continua quindi uno di fronte a questi dati dice mamma mia che faccio cioè mi strappo i capelli io però non lo so sarà un ottimista ingenua un po' troppo ma io penso che il mercato del vino abbia intanto i fondamentali buoni come dicevo prima e questo non ce lo dobbiamo dimenticare e che quindi è pronto a fare un gran rimbalzo per tutta una serie di ragioni che sono guarda una più più importante dell'altra tanto per incominciare la convivialità fa parte del nostro DNA per cui non appena sarà possibile ci sarà un rimbalzo generale su questo fronte per ritrovarsi per incontrarsi secondo è vero che l'ex è andato meno bene però l'Italia è quella che è andata meglio di tutti come prima diceva Donatella le francesi sono in crisi perché se l'Italia ha perso il 4% l'Italia ha perso 5 volte tanto e negli Stati Uniti che è il più grande big spend che ci sia sul fronte del vino i vini italiani probabilmente aumenteranno la loro quota di mercato perché il vino italiano negli Stati Uniti è particolarmente apprezzato e non solo negli Stati Uniti in tutti i paesi esteri che lavorano con il retail tipo Canada tipo Scandinavia tipo Stati Uniti il vino italiano è andato bene si è venduto il caso Pinogrigio la dice lunga è andato mai bene come in questo periodo quindi questa può dirne una ecco l'identikit funzionamenti però se qualche azienda cederà purtroppo il passo ce ne saranno altre che si rafforzeranno moltissimo io posso fare tranquillamente dei nomi il Labertini Demen del gruppo Angelini che è una potenza di fuoco sicuramente si rafforzerà sicuramente Santa Margherita si rafforzerà un consolidamento per cui spariscono le piccole aziende io non ci credo affatto a questo perché le capacità di resistenza sono incredibili diversificare il rischio anche non c'è ombra di dubbio che dovranno diversificare il loro assetto commerciale l'online che non ci dobbiamo meravigliare del più 200 più 100 partiamo da piccolissimi numeri e in questo momento ci sono grandi crescita ma sicuramente anche l'online quindi tra l'online la digitalizzazione lo spostamento importante su tutto quello che è sostenibile quindi investimenti importanti c'è un l'aiuto del governo arriverà guarda un produttore che normalmente non è dolce di sale come Angelo Gaia di recente ha detto che il nostro ministro dell'agricoltura in questo momento è uno dei più preparati che abbiamo mai avuto ed è particolarmente attento a quelle che sono le esigenze ma io di Gaia mi fido abbastanza perché lui è un provocatore certo strafatti in ogni caso Lorenzo Lorenzo intanto parlando dopo le due donne è dura è dura alla fine però proviamo a dire qualcosa di nuovo ma tanto riconosci bene anche tu lo sai no no ma anche perché il mondo è abbastanza variegato premetto che in questa fase si rischia anche di dire delle bestialità perché io ho analizzato 100 aziende a settembre già in due o tre mesi il mood se le vado a reintervistare mi possono dire altre cose però io vi dico quello che a mio avviso sta avvenendo allora bisogna distinguere aspetti congiunturali da aspetti strutturali allora alcuni cambiamenti nei comportamenti di consumo non sono congiunturali ma saranno strutturali cioè che torniamo indietro la digitalizzazione sia un aspetto che su alcuni target ormai va a incidere non sarà sconvolgente ma sarà sicuramente uno zoccolo e questo ecco secondo me gli imprenditori devono riuscire a fiutare quali sono i grandi cambiamenti come lo è stato prima la sostenibilità il tema della della digitalizzazione ma in generale dell'innovazione allora questi aspetti però non sono contro le piccole e medie imprese cioè è chiaro che oggi in un mercato molto difficile le grandi aziende con un marchio forte hanno la possibilità di reggere meglio la botta però Lorenzo Lorenzo le cose che diciamo tra la tele Anna infatti sono queste c'è un dimensionamento minimo sotto il quale forse l'azienda non ha gli anticorpi per andare avanti ma non è un problema solo di soldi è anche un problema di pianificazione perché la digitalizzazione se la fai partire durante l'emergenza prima che i piani vadano avanti ti ci vuole un paio due o tre anni devi imparare a fare un commestiere diverso le grandi aziende hanno incominciato prima e quindi possono mietere dei risultati ora però questo non vuol dire che una piccola media azienda organizzata non possa averlo così come sulla sostenibilità sull'innovazione tecnologica sulla digitalizzazione sull'internazionalizzazione queste sfide non sono non alla portata il problema è che dobbiamo avere delle competenze negli imprenditori forse un po' diverse ecco io ti dico qual è secondo me il modello familiare italiano non è superato secondo me la famiglia tutt'oggi si sta autofinanziando perché dalle banche diciamo che qualche problema nell'erogazione del credito c'è la famiglia tuttora è un bacino di competenza e probabilmente Donatella ci potrebbe spiegare anche quali sono stati i meccanismi di istruzione delle seconde generazioni però sta avvenendo una cosa per la prima volta mentre il tempo era un meccanismo importante di formazione quindi c'erano anche dei tempi di inserimento perché il giovane si metteva accanto al vecchio e doveva imparare il mestiere e stare zitto e oggi su alcuni temi che si chiamano digitalizzazione può darsi che una ragazza giovane di 26 anni ma regali laureate in filosofia o in scienza della comunicazione che magari una conoscenza più profonda ma se si mette accanto al suo babbo e gli spiega guarda probabilmente se usi social in questo modo il cliente tedesco che è venuto lo puoi tenere un legame io penso che forse dovremmo sperimentare modelli più inclusivi dove forse a livello di competenze disognerebbe guardate per me rimboccarsi le maniche andare a zappare in vigna è sempre una cosa positiva non devono essere tutti laureati però attenzione quando si parla di digitalizzazione di innovazione tecnologica non ci devi improvvisare come il Giappone o la Cina ti hai bisogno anche di un livello di competenze di soglia che una piccola e media impresa fa fatica non solo a pagarsi un manager ma fa fatica ad attrarre alcune competenze critiche ecco perché io dico la politica perché noi oggi abbiamo un grosso problema che i nostri giovani perché non riusciamo ad abbattere il costo del lavoro per fare in modo che alcune di queste competenze che siano figli meglio ma se non sono figli possono andare all'interno dell'azienda aiutandoli in una fase di transizione ma con dei costi di lavoro che non sono quelli di ora ecco forse faremo del bene da un lato ai giovani che con umiltà si dovrebbero mettere accanto alle persone che conoscono il business e forse anche qualche anziano che è un po' pensa di sapere tutto forse qualche giovane se gli spiega come funzionano i social qualche cosa deve insegnare ecco questa è la sfida secondo me che guardate Next sul il plan europeo è perfetto se la politica riesce a giocare bene le sue carte qui puoi fare un salto di qualità che non è immediato ma può avere dei risultati nel medio-lungo periodo se no attenzione noi oggi abbiamo un grosso gap io non ho problemi a mettere i miei laureati migliori però il mio problema è tenerli nel territorio nelle aziende no di un certo livello perché molti dei miei stanno andando via ecco Lorenzo fra le cose che sono venute fuori nelle puntate precedenti alcuni hanno posto l'accento sulla necessità di fare le reti di impresa cioè di usare questo nuovo strumento perché i piccoli possano fare che l'abbiamo chiamata un'alleanza per competere ci credi in questo strumento? allora guarda noi abbiamo una strumentazione legislativa che è molto buona sulle reti più avanti di altri paesi quindi noi l'apparato giuridico ce l'avremmo però ci abbiamo anche dei fallimenti io ti dico una cosa i consorzi vanno bene per determinate cose ma sono troppo ampi per fare progetti specifici esatto reti di imprese di 5, 6, 10 imprese quando trovo degli imprenditori che hanno degli interessi comuni come ti ho detto ecco quello della digitalizzazione no o anche il tema della sostenibilità quando 5, 6 attori magari contigui o comunque di uno stesso territorio hanno gli stessi obiettivi probabilmente dei progetti di rete possono essere lo strumento per raggiungere quel livello di soglia che da solo non hai esatto faccio una considerazione perché farsi fare perché entrare in un gruppage deciso da un distributore possono essere 5, 6, 10 aziende che insieme si mettono lì e decidono loro di fare una politica di vendita dei propri vini insieme fatti dire una battuta cattiva la somma di imprese deboli non dà un soggetto forte io le reti che ho vinto sono dove c'è un'azienda leader che sta e che riesce magari a portarsi tra in aria degli attori che condividono quella filosofia non è che 5 nani o 6 nani uno intorno all'altro sono abbastanza stabili però attenzione questo non voglio dire che la leadership la misuro con le dimensioni la leadership può anche essere un'azienda che ha pochi ettari ma ha tante competenze quindi se tu mi dici la rete può essere uno strumento sì non è quello salvitico però questo è uno dei tanti asset che permettono ad esempio a degli attori di portare avanti dei progetti che adesso non ce la fanno ecco allora Lorenzo grazie siamo arrivati alla fine se se Lorenzo e Anna me lo permettono io vorrei far chiudere a Donatella Donatella come capitano coraggioso perché diciamo io ho l'onore riconoscerla bene e l'ho vista sempre con un grande capacità di reagire con una grinta vi garantisco non comune e quindi in un momento come questo per chiudere questo ciclo di cinque puntate forse ci serve un capitano coraggioso che ci dice da che parte andare Donatella a te l'onore e l'onere grazie grazie Davide grazie soprattutto della stima la figura allora io quello che consiglio a tutti è da una parte non guardare a un orizzonte breve ma guardare un po' più lungo perché altrimenti non si riesce a trovare nemmeno le soluzioni dei problemi due come ha detto prima il professor Zanni che condivido non andare avanti da soli provare a fare degli aggregati che rafforzano il proprio progetto lo rendono anche più sostenibile da un punto di vista economico credo però che non si possa fare a meno di fare aggregati per similitudine che siano sulla base della denominazione della strada del vino del territorio oppure di come dire di aggregati che come dire permettono di avere uno scopo comune abbastanza identificato la digitalizzazione è un must avvicinare il cliente finale è una necessità immediata è vero che mancano i tecnici mancano i tecnici che affiancano le aziende perché si tratta effettivamente in questo momento di trovare delle soluzioni piuttosto sofisticate non sono così semplici cioè gestire i budget di investimento e sapersi muovere fra i SEO la costruzione grafica eccetera non è così semplice io ho sempre in mente quello che ho visto a Berlino in un wine club dove c'erano questi qua che sembrava una discoteca in realtà c'erano grafici uomini del digitale psicologi e non solo se vi posso permettere da comunicatore non improvvisate non affidatevi agli atteggi a carbugli non fatelo fare amici e parenti a caso rivolgieti da professionisti non dico a me ma dico in generale sceglietevi dei professionisti che all'apparenza vi sembra anche forse un po' troppo cari ma non state spendendo ricordate state investendo sono due cose diverse ed è molto difficile molto difficile perché è vero che ci vuole questa generazione digitalizzata e anche molto come dire smart molto aggiornata e ci vogliono poi dei tecnici della comunicazione più competenti perché scrivere delle stupidaggini dequalifica proprio il messaggio quindi sono molto attenti anche agli errori di ortografia in italiano perché non è una cosa da sottostimare sono piuttosto frequenti ultimamente ecco ecco quindi è una cosa piuttosto complessa non bisogna perdersi non bisogna farsi prendere dal panico è anche vero che passeremo un altro anno complicato ma le strade si trovano bisogna però studiare di più studiare di più smettere di pensare che quello che si è studiato vent'anni fa all'università basti perché bisogna studiare tutti i giorni ormai in questa società l'aggiornamento è continuo e necessario e questo purtroppo è così però diciamo l'invito nostro di tutti i nostri ospiti sono stati venti in queste cinque puntate e anche si capisce le parole di Donatella è quello di avere la grinta e il coraggio di non abbattersi di andare avanti e come si dice la visione positiva della volontà a volte l'intelligenza ci fa pensare negativo come qualcuno dice mi pare l'ho letto da qualche parte ha detto sei Donatella ma la volontà ci deve portare ad essere ad essere positivi e quindi auguriamoci che questo 2021 che sta arrivando e che è così vicino sia un anno in cui ci mettiamo alle spalle come ci ha detto all'inizio di questo di questo viaggio il professor Montomoli ci mettiamo alle spalle il covid che festeggeremo si spera di festeggiare il prossimo Natale senza questo incubo e che ci trovi di nuovo in pista con un po' di socialità recuperata e con un mercato con un mondo di aziende che sia in grado di affrontare la complessità e i cambiamenti che questa pandemia ci ha portato io vi ringrazio per essere stati qui con noi ringrazio ovviamente Anna Donatella Lorenzo è un piacere come sempre per stare con voi a parlare se vorrebbe andare avanti tutta la sera purtroppo il nostro tempo è finito io vi saluto e ringrazio tutti i nostri spettatori grazie a voi ciao grazie a tutti Grazie per la visione